un saluto al mister eccolo andato andata andato pensavo avesse la pettolina arrotolata ma forse ce l'ha la pettolina bravo bravo va bene va bene va bene tiro che per poco sfiorava l'incrocio dei palli alla martellini che poi andava a vedere le immagini vai 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 che deve fare il cuore aia chi è questo qui bravo 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 Alvin grande Alvin bravo 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 petre ciao sono tornino guarda che iniziata la partita ok ciao 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 che fai giusto maurì allora allora siamo qui questo queste maglie gialle bella 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 cosa fischiata ma lì vieni qua cadono vieni qua che c'è spazio aà Ma chi c'è al bar? Le donne Tutte le donne Antonella Ma quelle stanno al caldo Che glielo freddo Io ho detto che inizia Vai bomber Vai bomber Vai bomber Mordilo 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 Io ho detto che arrivavano alle 6 meno un quarto La partita lì L'ho detto che va bene Ma tu che ci vieni a casa Yusef Eh? Yusef lì Solo girati Bravo Bravo Stefano va bene Dai Bene Luca Bene È arrivata Che ne so? L'Italia ha detto che alle 6 giochiamo Giochiamo Chi? L'Italia Vai 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 Buonasera Buona buona Dai 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 qua devi fare un falò più che un coro andiamo fuoco alle tribune qualcuno in Calilì ha detto che non piove che non fa freddo eppure stamattina sai che non faceva freddo stamattina sì adesso fuori gioco arbitro è di due metri avanti bravo Gianlu dai Gabri dai 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 aiutare qualcuno bravo eh non c'è nessuno no non lo fa freddo e qua non è uguale sono correnti calde c'è il calore dei tifosi qua va bene va bene bravo bravo nico fallo fallo dai bravo nico vieni a prendere il pallone stefano